E' avvenuto che nel corso dei lavori previsti per la metropolitana questa notte c'è stato un crollo probabilmente legato a un canale d'acqua che è stato toccato. Al momento per quanto riguarda la parte del cimitero monumentale tutte le attività inerente alla polizia mortuaria sono sospese fino a sabato prossimo venturo. Alla prossima Abbiamo ricevuto questa notizia dal PM di turno e l'area è interdetta. E poi per motivi di sicurezza è chiusa tutta l'area del monumentale. E' una cosa che non avrei voluto vedere, è indecoroso quello che è successo, le immagini non sono belle, anzi ho chiesto subito di porre in sicurezza il territorio ma anche di porre dei teli per quanto riguarda le macerie che derivano dalle cappelle che sono crollate. Ripeto, sono cappelle che sono gestite dalle congregazioni e in questo caso il Comune non ha alcun ruolo tranne quello di autorizzare tutti gli interventi di gestione fatte però diciamo dalla curia. Alla prossima